mercoledì 7 ottobre 2020 bentornati su cper tv oggi iniziamo con un buy in di 800 metri di corsa con una sandbag poi due run for time con 15 and stand push up 30 pistol squat 45 pull up e 800 metri di corsa come cash out sempre con la sandbag i pesi le scalature sulla grafica noi ci vediamo domani buona giornata e buon divertimento con il vuole di cper tv